Genera una struttura cristallina di ogni liquido. Riduce la tensione superficiale dell'acqua. Migliora il gusto di tutte le bevande, sconfiggendo l'inquinamento da ELF e MF. Aumenta la data di scadenza dei liquidi. Migliora l'assorbimento delle creme per la pelle. Ha un chip NFC. Ricarica la tua card con lo smartphone. Usa anche i 4 biodisc per armonizzare le frequenze naturali. Vitalizing Card. Armonizza le frequenze della tua vita. CellWellBean Italia. La rivoluzione epigenetica per il benessere. Chiedici tutte le informazioni. Scrivi a infochiocciolaepinutracel.it Chiama allo 0 187 17 80 859. CellWellBean. Il tuo pass per il benessere.